dicono tutti che per fare le storie bisogna sempre fare qualcosa di originale no bisogna uscire dalla stanza hai capito? lo sapevi tu? ma io mi sto destrozzando mi stai scattando? aiuto tentato di prenderlo si chiama quel programma di merda dove scarichiamo le canzoni? aiuto ok grazie stronzo ma che stronzo ma è proprio un stronzo ti sei girato hai perso non è che stai facendo 3 2 1 non ti prego mi sta riprendendo bastardo di merda non mi picchi dai 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 non è che devi fare il codone di merda 2 3 2 1 2 2 aia il babba mi ha fatto il coro ho perso una settimana dietro a questo disco mi dai stavo sopra forno aia guarda che mi accendo aia che cazzo c'era dentro guarda che cazzo c'era in quella tasca bastardo adesso vengono i chiavi bastardo di merda bene così di impazzito che cazzo Oh my God, Steve, I'm in there! No! ...azione per aiutarvi a cambiare il posto ... ... ... Ma c'è il coglione? ... 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 è il suo di merda lo sapevo che facevo il coglion Stato lì Alla palla Alla palla